Un disegno, una poesia, una statuina di San Francesco, ma soprattutto una miriade di lettere. Una cascata di buste, grandi e piccole, tante quante ne possono contenere i sacchi delle poste vaticane, riversati qui in 25-30 ogni settimana. Sono i plichi di tutti coloro che scrivono a Papa Francesco e che vengono recapitati all'ufficio situato nella terza loggia del Palazzo Apostolico. Un flusso intensissimo e ininterrotto, a fronteggiare il quale, con competenza e sensibilità, vi sono stabilmente Monsignor Giuliano Gallorini, Sor Anna e Due Signore. A loro spetta il compito di smistare la corrispondenza in base alla lingua, leggere quella in lingua italiana, valutarne il contenuto e inoltrarla ad altri uffici o, se possibile, stilare direttamente una risposta. Ma cosa chiede chi scrive al Papa? Lo spiega Monsignor Gallorini. Le richieste sono soprattutto così di conforto, di preghiera, perché moltissime riguardano, ecco, sarà anche il momento che viviamo, le difficoltà e soprattutto riguarda le malattie, chiedono preghiere per i bambini e descrivono anche situazioni di difficoltà economiche. Si cerca un pochettino di far sentire la vicinanza del Papa che coglie la loro sofferenza, il loro disagio che avvicinano nella preghiera. Poi per quello che è possibile aiutarlo si indirizzano agli uffici che possono, per esempio, nel caso di richiesta di aiuti economici, vengono trasmesse alle caritas diocesane perché possano sia verificare sia essere immediatamente più operativi. Per la sua straordinaria carica umana, oltre che spirituale, Papa Francesco risponderebbe volentieri, di persona, a ogni lettera, ma sarebbe un'impresa sovrumana. Ma non poche sono comunque le lettere che arrivano sulla sua scrivania. Sì, sono i casi un pochettino più delicati, i casi di coscienza. Allora viene fatto un appunto e passato ai segretari perché il Papa li prende a visione direttamente e spesse volte, ecco, senz'altro li legge, mette la sigla o mette anche la mente come l'indirizzo, come dobbiamo rispondere. Storie bellissime di fede e di solidarietà vissuta emergono dalla lettura di queste righe. Lettura che tocca ogni volta il cuore di chi ha il compito di aprirle per conto di Papa Francesco è soprattutto la responsabilità di porsi in particolare sintonia con il suo grande cuore di padre. Leggere queste lettere più che con la mente, con il cuore, condividere la sofferenza e cercare di trovare un pochettino quelle parole adatte per esprimere quella che il Papa vuole veramente che si esprima, la vicinanza, la condivisione, è veramente molto molto vicino e lo stile di condividere, del resto l'ha sempre detto, ecco, che il pastore deve vivere con il greggio e con le pecole, sentire, vivere l'esperienza con loro.